Taglio del nastro a Cagli per il tredicesimo sportello ERA presente in provincia di Pesaro Urbino. Un investimento importante del gruppo ERA nella città di Cagli che apre un servizio di prossimità in via Alessandri 23 e 25 in pieno centro storico. L'inaugurazione e l'apertura di questo punto vendita rappresenta un ennesimo successo. Un ennesimo successo che va dall'Abruzzo fino al nord Italia e sicuramente per Cagli può rappresentare un ulteriore spazio dove avere a che fare con persone professionalizzate e soprattutto dove avere un po' una linea guida per questa transizione ecologica che è un po' il fil rouge che va a costruire il tema degli ultimi anni. Non solo per il gruppo ERA, non solo per ERA con Marche ma in generale per quelle che sono delle scelte che tutti stiamo iniziando effettivamente a fare. Il progetto che oggi vede la luce qui a Cagli di aprire un punto vendita e anche un punto di assistenza ai clienti per le pratiche sostanzialmente di servizio quindi informazioni sulle bollette, pratiche di apertura contatori, chiusura, modifica delle potenze elettriche, acquisizione di nuovi allacciamenti, autoletture e quant'altro si svolgono con un certo agio se c'è la possibilità di parlare vis-à-vis con una persona che professionalmente si occupa di queste cose in uno sportello fisico. Ci fa piacere perché vuol dire che su Cagli ci si punta e vuol dire che Cagli ha quelle potenzialità in cui noi dell'amministrazione crediamo da tanti anni quindi grazie veramente di cuore per questa apertura. Mi fa piacere che un'attività come questa si svolga all'interno del nostro centro storico che è agli occhi di tutti l'impegno dell'amministrazione per valorizzarlo, per renderlo fruibile ai turisti perché crediamo veramente di oltre i servizi essenziali e questo lo è, che vogliamo potenziare, vogliamo riprendere o mantenere a seconda di quello che abbiamo, però anche da un punto di vista turistico ci fa tanto piacere perché credo che faccia piacere anche a chi lavorerà qui perché vivere in questo bel centro è una cosa piacevole e credo che sia anche il discorso della bellezza, del benessere che si respira qui sia un valore aggiunto che chi starà qui apprezzerà sicuramente.